Benvenuti sul canale PG Passione Games, buon venerdì, si avviciniamo al fine settimana, tra l'altro è il fine settimana con il ponte, almeno per chi ovviamente si può permettere il ponte e quindi sottoscritto forse lo farà, ma questo è un altro argomento. Allora, settimana di FIFA, ragazzi, settimana di FIFA dove oggettivamente, parlando un pochino di quello che è successo, insomma, ragazzi, sono rimasto un po' deluso, devo essere sincero, nel senso che mentre le settimane precedenti, sia la carriera che anche altri video che proponiamo su FUT, erano decisamente simili questa settimana invece, vi siete un pochino, tra virgolette, nascosti dietro un pollice. Forse, tra le altre cose, forse, ma questa è colpa mia, ovviamente non accetto colpa vostra, forse, forse, appunto, i contenuti che ho portato non erano così interessanti come gli altri. Comunque, ragazzi, c'è sempre tempo, ci sono tutte le playlist, potete tranquillamente vedere, soprattutto un po' di delusione per quanto riguarda, invece, il discorso di Tozze, forse non interessa più a nessuno, tra le altre cose, con tutte queste carte che sono vute fuori con FIFA, anche la carriera questa settimana non è che sia stata super seguita, non è, ovviamente. Diciamo, questa è la carriera che viene, diciamo, seguita da tutto il mondo di YouTube, però, insomma, ci sono stati i nomi decisamente migliori. Quindi, una piccola bacchettata sulle mani a voi che seguite il canale. A parte gli scherzi, io ringrazio sempre e comunque tutti quelli che si sono iscritti, che si iscriveranno e che vendono i video. Però, questa settimana, ragazzi, un minimo di delusione c'è, ma va bene comunque. La settimana prossima riprenderemo in maniera normale con due episodi di FIFA, però questa settimana, appunto, ho voluto dargli una bella bottarella con due partite in più, perché voglio vedere, appunto, se si riesce ad arrivare in quell'obiettivo che è, scusate, il discorso della competizione europea. Allora, l'ultima partita, ragazzi, abbiamo perso 2-1 contro il Milan, ma, da quel punto di vista, è stata una partita giusta. Intanto, vediamo un po'. La squadra di Copenaghen, del settentrano, pensando Bellemo, andiamo via. Rifiuta l'offerta, perché Bellemo, ragazzi, Copenaghen. Non stiamo seguendo i piani, come è pienamente discusso nella sessione, l'obiettivo di riserva della crescita dei nostri giovani, con il presento un guardo, portatevi il club, e te lo guardo che al momento, gli abbiamo preso a raccruzione gli obiettivi specifici, i vari obiettivi, ci sono. Crescita dei giovani, la crescita dei giovani si accenda sulla priorizzazione. Ma, ragazzi, io direi, media, media, molto bassa, società continentale, 4 giocatori per il tuo vitaio nei seguenti ruoli, portiere, difensore, c'è di trovare attaccante. Ragazzi, bisogna ingaggiare, per il tuo vivaio. Quindi bisogna prendere qualche rugazzetto, bisogna prenderlo, ragazzi, perché già due volte ce lo diano, se no poi dopo ce lo potrebbero anche undire. Magari alla fine di questo episodio lo farò, e poi ve lo racconterò nel prossimo, che, ripeto, sarà martedì. Allora, si gioca contro l'Inter, quindi un'altra difficilissima partita. L'Inter, però, a differenza del Milan, non è messo benissimo. Eccolo qui. Allora, assistente. C'è Montes, ha raggiunto i livelli fisici e tecniche che si spiega a lui. Viene a tenere sotto uno controllo, saluti. Montes, ragazzi, è fondamentale. Quindi, delega del rinnovo. Anche lui quanto c'ha? Quanto c'ha il contratto, lui? Buh, buh. Tattativa. Delega del rinnovo. Io metterei anche di più. Avanti. Accetta. Allora, squadra cruciale, però non hanno. Ok. Noi abbiamo dato un po', perché questi giocatori sono quelli che noi poi, di fatto, bisogna puntarci. Allora, giochiamo la partita contro l'Inter. Partitaccia, eh. Vediamo un po' l'Inter. Noi si gioca con Strinzola, non è vero cosa si cambia. Intanto, vediamoci l'Inter, Van Dijk, Alaba, questi ci sfondano. Pirola ci dice come cacio su maccheroni, però va bene. Sensi, Sanghier, Sensi tornato. Barella, va bene. Cugna, Martinez, Silva e Bowen. E noi, piccoli piccoli. Allora, gestione della squadra. Strizzolo mi va in panca. Intanto, vedete, Cissé è cresciuto tantissimo. Bolí al posto di Kanté. Anzi, Kanté al posto di Bolí, anche Bolí è cresciuto. E poi, il resto, io direi di lasciarlo così. Palaccio sta crescendo. Ecco, magari... Aymar. Ok. Poi non c'è nessun altro, no? Ok. Questa è un po' la squadra. Ragazzi, Contini sta facendo veramente bene. Gioco la partita. E vai con l'Illizio. Allora, come sempre, io vi invito, poi ve lo dirò anche alla fine, a iscrivervi al canale. 10 gol, eh, ragazzi. Il mio giocatore... Allora, Asci, un flash. Tra l'altro, se invece tre gol mi sembra, tripettano. Una quaterna in una delle partite ultime. Se non l'avete visto, la torna playlist dedicata alla carriera del comune la trovate. Partitaccia, questa. Comunque, giovanca a casa contro l'Inter. Buu, buu, si c'è di tutto. Non cambiate canale, seguite me e l'Alea Dalli. Bello che sia. Ragazzi, ne... Mi aspetto una sfida stellare. Sì, me lo immagino. Allora, l'Inter gioca con la maglia... La terza maglia. La seconda maglia. Ci sono davvero tutti. Spera giovanne la seconda maglia. Mi garbava... Bravo! Allora, lui è fermo. Può andare in porta? Subito 1-0! Subito 1-0! Ci sei... Ma erano tutti fermi o sto sbagliando? Ora, l'ultimo aggiornamento che è stato fatto. Oggettivamente, mi sembra che abbia un attimino rallentato il... Però, insomma, una mia impressione. Su FUT ragazzi sto facendo delle figure malsane. Ma non riesco più a vincere una partita. Poi sono giocatori fermi. Giocatori che volano tipo di A-B. Comunque. Questo non è ovviamente l'oggetto del... Comunque, 1-0 dopo... 5 minuti, 6 minuti. L'It ovviamente, a differenza delle altre squadrone... È quella che è un pochino più sotto. Un po' più indietro. Più il momento. Però, intanto, se si riesce a vincere. Andai che in difesa... Io, sarà un po' più vecchiotto. Oh! Oh! Ma... Oh! Ma dai, ma se io... Dai ragazzi, io pigio, pigio! E che cazzo? Ma però... Scusate, ma dè... Succede così anche a FUT, no? Pigio, pigio! E non seleziona. Allora, dè... Vabbè... Riconquista palla. Ottima lettura. Bravo! Esce fuori Palacios! Vai Palacios! Esaltante per quanto riguarda la lotta al vero. Eeeh, Palacios! L'impressione che ho, Lele, è che ci porteremo a lungo con noi questo equilibrio. Sì, Pia, sono diverse le squadre che possono avanzare pretese nella forza al titolo. FLECH! Uuuu! 2-0 dopo 14 minuti! Eccoci, rieccoci, ragazzi. Ma come si è fatto a perdere a Milano contro il Mila? Era molto più forte. L'Inter sta prendendo una scoppola dopo un quarto d'ora già sotto 2-0. Si incomincia benissimo. Dai, si incomincia bene. È vero che siamo bene. FLECH è bellissimo. Comunque bravo anche il... Chi è quello lì? Mi sembra sia... Tantè. Comunque, dicevo, si viene da un pareggio e una sconfitta contro due grandi squadre che sono in cima, la classifica. Purtroppo l'Inter, pur avendoci la grande squadra, è molto sotto. Ma anche la Juventus, eh, quindi... Comunque 2-0, zitti, perché la partita è la mia finita. C'è tutto... Oh! Barella. Barella. Bravo! Ottimo intervento. Dagliela, dagliela, va da sé. Ma va da te, vai in porta, vai in porta, Cantè! Non può sbagliare da lì! Eh, no! Cosa ha sbagliato? Ma, ma, affanno! Cantè, ma dove vi fa lo scavetto? Infatti, si chiede troppo lo scavetto. Però, ragazzi, se vate vicino al 3-0, eh. Eccoci, questi carci d'angolo inutili. Ehi. Chi è questo lì? Palacio? Cugna, Cugna! Lo spagnolo? O cos'è? Andra Silva Si mette bene sull'aria del passaggio. Bravo! Dagliela! Ancora, Cantè! Dagliela, flecce! Wuuuuh! 3-0! 3-0! Doppietta di flecce! L'ho vista! Sei vista subito! Treva! A giro! Wuuuuh! 3-0! Grandi, grandi, grandi! Veramente fuori! Guarda il tiro! E qui... Chi è lui? Portiere? Non ho capito chi è di volo, mi ricordo. Comunque, 3-0, ragazzi. Si stanno massacrando. Giocando la squadra. 3-0! Le flecce! Doppietta! Questo è una bestia, là. Sarà difficile trattenerlo, eh. Va sotto, 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 sotto! Può avanzare indisturbato. Wuuuuh! 4-0! Kanté! 4-0! Non ci credo! Mazzacrati! 4-0 dopo 30 minuti! Vieni, questo è Kanté, no? No, ci sei! Ci sei! Fa guo anche lui! Wuuuuh! Allora, via, ragazzi. Non ce n'è per nessuno. Questa partita l'abbiamo stravita! Ah, è bella questa partita. Però, eh, quasi senza una labba. Che errore ha fatto? Qua è legnata, ci ha tirato. C'ha un po' l'appoggiato. Portiere, facci la presa. 4-0! Buona, ragazzi! L'Inter è stato massacrato in questi 32 minuti da un Como strepitoso! Ripeto, il nostro obiettivo non è certo vincere il campionato, perché non credo che ce la faremo. Wuuuuh! Ancora! Anche no ci sei! E la passa allo scarso! Ma come si fa a tirare queste scarpate? Come si fa a tirare queste scarpate? Fai un sì, fai soffia! Ma soffia, ma guarda il tiro! Ma addio benedetto, signore! Ma come si fa a proporre in Serie A un giocatore leggero? Che legnata ha dentro! Ma si stanno massacrando! Ma che è l'Inter? Non c'è l'Inter! Se ci fate caso, abbiamo fatto anche riposare a costa! Addio! Bravo! Padella! Addio! Grande tempestività di questo intervento! Ma Palacios! Corri! Occhio più alla ripartenza! Quello è fermo! No, guardate lì! Chi è quello? Mamma mia! È fermo il coso! La squadra dell'Inter è ferma! Ah! Ma chi era l'altro difensore? 4-0 il primo tempo, penso che sarà un'altra... Dopo la bellissima vittoria di Torino, che si vinse 4-0, se non sbaglio, per fuori Asa... Questa è un'altra strepitosa partita! Fletcher, minuti giocati 46 su 90, due gol, due tiri, due gol! 100%! Mettire a far gol! Bravo! Su 4! Ma anche Cissé! L'unica cosa lì ha voluto fare l'opportunista! L'ha data quello scarpone di... 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 Kanté e l'ha buttata! Kanté che ha avuto la possibilità di segnare due volte! Addio! Ora si fa le cazzate! Ma Lautaro, non si vede niente! Anche la difesa doveva essere super difesa! E allora, ecco, lo volevi? Lo volevi? Lo volevi? Ci sarà il portiere, chi esce? Anderson, a costa! Ci sa, ci sa, ci sta un po' riscotendo, perché probabilmente Inzaghi, sempre se è il mister Inzaghi dell'Inter, non lo so, che non ha mai avuto utili, sta dicendo, e qui si sta facendo la figura di Mentecatti, eh! E il tocco corto! Bravo, Ciccio! Bravo, Palacios! Sta crescendo tantissimo! Dall'altra cosa, Palacios, è uno dei V-Fi! Ma cavole! Il... A parte... L'avevamo già fatto giocare, ora poi magari, già alla fine di questa partita qui, o e... cerchiamo di trovare un giocatore! Cioè, ha detto lui in portiere! Bravo! Vai! Vai, Tissè! Mamma, c'hanno i sassi! Bravo! Vai, Cante! Vai, Cante! No! Ma cosa può provare? Lui, dagliela! Mamma mia, signore! Bellemo, dopo che si è rifiutato... Ma forse volevo andare... E la spaccata ti rompi così! Bravi, ragazzi! Non si passa! Non si passa! Sì, però, ragiona! Guarda, alza l'occhi! Fai giù! No! Ma che calcio di rigore! L'anca munito! Ai, madonna! Vabbè, calcio di rigore! Dai, giù! Vabbè, ragazzi! È il Dalla Junior! Ma la rigore! Chi è questo? Lautaro? Cugna! E io non so... Non so parare! Non so battere! Battere le forze! Ma insomma, Cugna! 4-1! Fekir! C'è da che fekir! Ma che squadra è? Addio! Ci siamo sgonfiati! Oh! Palacios! Ma non lo puoi di più, eh! Occhio a Fekir! Bravo, ciccio! Vai, Kanté! Ma corri! Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora! Fletcher! Mamma mia! Recuperano un buon pallone! Già interessante! Origiou! Decisivo qui il portiere! L'arbitro Dea! Comunque per... Ragazzi, per Odde... Kanté! Mamma mia! Kanté! Entra di Marco! Che è un terzino! Comunque 4-1 Ragazzi, per perdere Bisognerebbe prendere Proprio uno stocio di O I compagni si fanno vedere 7-D Funzioni? Funzioni? Vediamo se... Che ha provato? Dai, accosta! Accosta! Notaro Martino! 16 tocchi, un tiro, un gol! Tiro in porta 1! No, il gol l'ha fatto a Cugna! Infatti, se rinomermi... Che ha neto! Di dentro c'ha che neto! Ecco, tra l'altro, non è in previsione di venire nell'Inter! Chi era... C'era un giocatore, mi sembra De Gea, era in previsione di venire nell'Inter il prossimo anno! È un... Trattativa! Non ho capito... Comunque, l'altro qui c'è... Addio! Barella! Fa la persa la Barella! Ah! Mamma mia! Passaggi sbagliati, 100%! Addio! Eeeh! Finita! È finita! Arbitro è finita! Oh, grandi vittorie contro l'Inter! 4 a 1 ragazzi! Mamma mia! Mamma mia! Peccato per il calcio di rigore! Primo tempo strepitoso! Straripante! Secondo tempo... Ovviamente siamo un po' sgonfiati! L'Inter è un pochino uscita! Come mi aspettavo! Però ragazzi! L'abbiamo smassacrati! Due gol di Asci, Flash sempre più capocandoniere della Serie A! Complimenti! Allora, chi sarà il migliore? Cissé! Ma anche Cissé non ha giocato! No! Te hai visto dopo la partita! No! No! Vabbè! Vabbè! Ormai! Vabbè! Vabbè ragazzi! È sbagliato! Come partita! Mantieni per saltare! Perché ho deciso di non fare esordire Mounier? Ma chi è? Perché non ha fatto esordire Mounier? Non è una partita giusta! Ho bisogno di tempo per inserirsi! Ok! Ho bisogno di tempo per trovare le condizioni migliori! Ma se continuare, grazie come sta facendo, avrà persa la sua chance! Mounier! Vabbè! Facciamolo già a questo Mounier! Come Mounier! Sono avuto abbastanza spazio per farci perdonare le sue prestazioni! Eh! Non lo so! Sta giudendo la pazienza! Sfrutta! Non partirà a titolare! Come lo spiego! Come lo spiego lo scarso impiego di Anderson! Sta esuberando la pazienza! Sto esuberando! Sfruttare l'occasione! Tutti giocatori della rosa vogliono una chance di dimostrare di loro! E non fa accessione! Deve sfruttare ogni cosa che gli viene concesse e se vuole conquistare un po' su squadra! Ok! Fletch! Fletch è stato il progetto da tutto in questa vittoria con una doppietta! Come giusto la sua prova? Un'altra persona incomplessa! È stato straordinario! Straordinario! Non ho parole! Fletch ha giocato davvero bene oggi! Fletch ragazzi è cruciale! Importante anche Anderson! È importante! Allora facciamo giocare questo VIP perché effettivamente l'abbiamo preso! Allora intanto andiamo a cambiare un po' gestione della squadra! Alla strinzolo ragazzi! Mettiamolo in panca al posto di Cissè! Ma chi era questo VIP? Ah! Muner! Allora! Proviamolo! Vai! A sinistra! Al posto di Bully! Va bene? Muner! Lo proviamo! Vuoi giocare? E lo facciamo giocare! Poi! Palacios! Odenthal! Contini! E lasciamolo tutti essi! Allora facciamo così! Guarda! Non so che si gioca ma Cissè! Lo facciamo un po' di posa! Fletch! Non possiamo non farlo giocare! Quindi proviamo così! Salviamolo e poi dopo lo ricambiamo! Allora! Andiamo avanti e prendiamo i trasferimenti! Allora! I giovani! Relazione dei giovani! Un po'! Io voglio gente giovane! Giovanissima! Che è questo? Se no altrimenti ci ho preso conto ma... Cerca giocatari! Cerchiamo giocatori! I bimbi! Allora! Età! Minima! Massima! 17! Ok! Poi! Vediamo un po' che sono sul mercato! Non ce n'è! Infatti! Qualsiasi! No! 50! 50! Non lo voglio! Perché se ne ho... Qualsiasi! Ok! Abbiamo Acosta! Questo chi è? Andres Acosta! Cioè sarebbe... Acugna! Ma italiano ce n'è! Attaccanti! Tutti giocatori molto sì! Allora! Halbali! Tutti! Arnold! Dennis Arnold! Che non c'ha niente! 16 anni! Aggiungi! Ok! E poi un centrocampista! Ha voluto! Aquino! Ma italiano ce n'è? È svincolato! Ok! E poi un difensore! Italiano ovviamente non c'è! Alvarez! Anche lui! Ok! E poi un portiere! Questo qui! Poi così ne vediamo un po'! Poi! Quando ci sarà il calcio mercato faremo quello che ci è successo un amico del canale! Ora poi andrò a rivedere! Magari se stai vedendo questa puntata! Magari riscrivono nei commenti così lo metto già nei giocatori da cercare! Ok! Andiamo avanti! E facciamoci questa partita! La facciamo alla fine! La vista diciamo! Oh! Ospiti! Si gioca a Firenze! Gabriele! Non ci sei! Ma bisogna che la giochi per forza! Quindi questo venerdì Gabriele commenterà! Partita da Firenze che ha 19 punti! Non è messa male! Dai! Lasciarla a vedere! Dai! La classifica! Sono curioso! Noi siamo sempre sesti ovviamente! Però insomma siamo tutti lì! Ci abbiamo 23 punti! Mentre! Ora è la Lazio! Testa con 28! Quindi siamo 5 minuti dalla testa! Ma soprattutto siamo dalla zona Champions 2 punti! La Fiorentina è subito dopo! 19! Quindi ha appunto 4 punti in meno! Quindi partitaccia! Tra le altre partite che spiccano c'è il derby Torino contro la Juventus! La Juventus è in piena recupero! Settima posizione con 22 punti! E l'Inter infatti sta facendo scrivo! Vedi 17 punti! Poi c'è abbiamo Bologna, Lazio, Latinum, Lazio che è in testa ricordo! E poi c'è... E poi chi c'è? La Fiorentina non ha ancora giocato! Per tempo la Fiorentina ha 13 partite! Alcune hanno già giocato! Vabbè! Comunque tanto poi la vedremo dopo! Allora giochiamo questa partita contro la Viola! Sono curioso di vedere chi è la Viola! C'è Dragoschi in porta! Ram Sunders! Poi Mavro Panos! Pierozzi a destra! Daniele a sinistra! Ambarabacicicoccoci è rimasto! Suarez! Cocchiù! Poi c'è Montenau! C'è Rumeo! James! E là! E Saponara! Saponara è il più vecchio! Noi giochiamo con la squadra di prima! Ho detto Ali! Che dovrebbe essere da titolare debuttante! Poi Mugner è uguale! Pioggia! Pioggia! Campaccio! Sì a Firenze! Sì! Pioggia! Ho letto bene! 12 gol! Record in competizione sono 36 ma non l'ha fatta la scorsa stagione! Mi sembra già... Ah! Piove! Piove! Eh! Quando piove è Campaccio! E là! L'arbitro c'è! La donna! Lelina di A! Il match tutto da seguire Lele! Partita che offre diversi spunti interessanti! Entrambe le squadre hanno giocato per risolvere la partita da un momento all'altro! Io penso che non ci annoieremo! Eh! Volevo andare in porta! Ora vieni ragazzi! La vedo dura eh! L'occhi per flecce! Addio! Addio Saponara! Sotto! Con calma! Facciamo girare la palla! Chi è questo? Cioè lui vuol giocare poi... Mamma mia! Tutto! Addio! No! Mamma mia! Cosa ha preso il portiere! Grande Contini! Flecce! Flecce! Così rischia davvero di battere il record di gol segnato in questa competizione! Io non vorrei essere i panni della difesa! Fidati! Aumenta la pressione! Non si accontentano del pari! Addio! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! L'avevo vista dentro! L'avevo vista! No! No! Mamma mia! Signore! Questi errori no! Questi errori no! Campaccio! E' un altro errore! E' un altro buono eh! Fallo! Ora fallo! Brutto su di sciupe! E' un altro errore! Via! Mamma mia! Ammunisci ora! Scusami! Se hai perso palla d'acciola no! Che sarebbe terminato! Eh è pronto là lui! Ah! Ma si prendeva gol! Sulla situazione precedente le strae giustamente il giallo! Giustamente! Vai Muneri! Mamma mia! Mamma! Vuoi giocare! E poi fa cagare! E poi fa! Bravo! Attenzione! Perché questa poi... No! Cosa ha sbagliato! Chi è questo video? Vada lui! Barbetta lì! Che errore! Ed è! Bella però! Dai! Bella partita! Corner battuto in mezzo! Oh! L'ha presa eh! Fletcher! Non è finita! Nulla di fatto dunque! Ma è una lotta! Denis Suarez! Aio! Aio! Sapunano! Aio! L'ho visto bene! Nessuno che prende in mano l'iniziativa! Guardi due possessi pala! Ambra Baci! Ciccocò! Belgio a Torino! Il risultato ci sblocchi! Hanno questo possesso a disposizione! Possono senz'altro far male! Se lo sfruttano a dovere! Posizione invitante! Sentite il pubblico! Un minuto indicato dal tabellone del quarto uomo! Partita c'è ragazzi! Poi campaccio! Campaccio! Però insomma ci siamo! Dai ci siamo! La viola sta durando un po' più di difficoltà! Ah lui è James! L'inglese! Wow! Non ha fatto un tiro! Non ha fatto un tiro fuori! Niente! Non ha fatto nulla! Ha giocato! Ma c'era! E che ha fatto vedere le statistiche di uno che non ha fatto una mazza! Dunque vabbè! Dai! Allora qui abbiamo il Napoli vince con il Sassuolo! L'Empoli 1-1! Il Juventus con il Bologna 1-1! Siamo un po' al burro! Stanco Fletcher! Un tocco facile facile sulla respinta corta! Comunque bravo a farsi trovare il punto giusto! Punteggio che ora è sul 2-1 al minuto 47! D'accordo! Occhio al contravere qui! Gli ADV è pronta ancora per il campionato italiano con la Serie A! Gara che vedrà impegnate Fiorentina e Milan! Mi piace il calcio! Oh oh oh! Vi posso vedere giocate spettacolari tanti gol! Sappete di fare! Qui c'è il rischio di prendere il rigore! Vai Muner! Vai Bellemo! Dagliela! No! Fletcher! Adesso non tiene un pallone e me ne ha pagato l'oro! Ah! Addio! Cosa ha preso? Cosa ha preso? Fuori show! Fuori show! Ma l'ha preso Contini! Era fuori show! Giusto! Anders non ce la fa più! C'è il cambio dunque! Allora! Da solo! Va a Palacios! Vai in porta! Palacios! In possesso palla per far uscire gli avversari! Occasione d'oro questa! No! Che errore! Che errore! Vanno ragazzi in contropello velocissimo! Su questo campaccio vì! Saponara! Canales! Palla in aria di rigore! Non riesce a liberare! Palla ancora buona! Buon è botta! Ma chi è? Buon è botta riconquista palla sulla tre quarti! Alzano il pressi! Bravo! I TV la casa del grande calcio che continua con un match davvero imperdibile! Amici non perdetevi questo appuntamento perché ho la sensazione che ne vedremo delle belle! Vi do la mia parola! Fuori gioco! Fuori gioco! Ma proprio se c'è un trovazio ragazzi! Martedì non perdete l'episodio perché ci giocherà contro un'altra grande squadra! Bravo! Malasios! No! No! Cosa si può sbagliare questi tiri vini? Dai! Ali! Babà! Ma come si fa? Guarda là! Guarda là! Come l'ha ripresa! No! L'ha toccata? No! Mamma mia non c'è arrivato! Che errori! Si poteva far il colpaccio! Porca la miseria azzuzona! Trattativo di chiusura sul portatore di palla. Tutto? Andra ragazzi! Mancano dieci minuti alla fine della gara! No! Squadra in parità! La Fiorentina prova ancora un assalto! Mamma mia ho già sbagliato! Ci sei dai! È meglio! Ali! Hai sprecato un'occasione! Con quel gol lì è sbagliato! Sulla vittoria finale, visto quanto manca il termine! Si libera la grande! Altra occasione! Attenzione! Uuuu! Ha visto che ci sei segno all'ottantasentesimo! 1-0! All'ottantasentesimo ragazzi! Purtroppo è così! Lui deve essere... L'abbiamo fatto riposare! 1-0! Ma alla fine ce lo siamo meritati a questa vittoria! Perché di fatto... Porca miseria! Si è sbagliato quel gol lì con Ali! Che insomma... Roba da qui! Grande azione di Palacio! Sempre migliore! Boh! Da solo! Cross in mezzo! Poteva anche tirare! 1-0! E ci sei non sbaglia! Altra grossa, grossa sorpresa questo giocatore qui! Preveni... 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 Taglia, taglia, taglia! Abbiamo preso dal Pisa che non ci faceva niente! Mustafuà! Sì, sì! 1-0 all'ottantottesimo! Tre punti fondamentali per la nostra lotta per un posto in Europa eh ragazzi! Anche perché la Juventus sta vincendo! Se no ci usavano! E' là! 180 secondi! Questa è l'entità! Ah! Oh! Non è finita eh! Sotto! 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 Si centra in avanti a cacciare il pari! Manca poco! Supera di me! Oddio! No! Non ci credo al 95esimo! Hanno pareggiato! Affancufi al 95esimo! Porca miseria! Miseria! Zonzola! Cubatechi! Cazzo è! Ma vaffanculo! Ci è arrivato il portiere! Poteva allungare il guanto! Ma porca miseria! 1-1! Peccato ragazzi! Ci credevo! Ci credevo! Ci credevo! E' finita! Eh! All'ultimo secondo hanno pareggiato! Bella partita! Una delle più belle queste di con la Fiorentina! Ma porca la miseria! Peccato! Curcù! Che cacchio! Ma che cazzo! Ma dove trova le stile? Comunque grande prestazione ci sia! Giù a 10 minuti ha fatto un go! Mentre lì ragazzi! Delusione! La fanchina ancora più delusione! Vabbè ragazzi! Dopo la scolpacetta con l'Inter! Io ci avevo fatto un pizzeria a vincere il Carfranchi! Non ce l'abbiamo fatta! 1-1 dopo questa partita! Porca! Mi sembravano certi errori! Però! Oh ragazzi! Quindi! Allora niente! Ah! Non ha giocato un malaccio! E la Juventus ha strapazzato il Bologna! E credo che ci abbia recuperato! Perché c'è qualche punto in vai! Vediamocelo! Siamo settimi! Infatti! Siamo fuori dalle coppe per il momento! Però! Un punto! C'è il Milan! La Juventus è fatta a 25! Ci ha ripreso! Ci ha superato! Vabbè ragazzi! Siamo tutti lì! Ovviamente! Noi ci siamo! Voi ci dovete essere! Martedì ragazzi! Nuovo episodio! Con la carriera! Si torna con il martedì e il mercoledì! Che dire! Il martedì che tra le altre cose è il 25 di aprile! Quindi magari! Che ne so! Un po' più alle 10! Ce lo guardate! Lo vedete più tardi! E poi appunto! Insomma lunedì ragazzi! Ci sarà un altro video di FIFA! Ve lo dico già ora! Ve lo dirò domani anche nel weekly del faccione! E la seconda parte di TOTS! Ragazzi! L'avete visto pochi! In pochi! L'avete visto la prima parte! Mi raccomando! Recuperate con la seconda! E magari! Che ne so! Vi ci metterò anche il video della prima parte! E vi diverterete! Io vi saluto! E vi do appuntamento! Per quanto riguarda la carriera di FIFA! Con il mister Gattuso! A martedì! Ciao! Iscrivetevi! Ciao!